più a me. Ciao Bari, buona giornata a tutti, buon venerdì 3 aprile a tutti, l'ultima puntata prima della pausa pasquale, ecco perché mi sono visita di celeste quest'anno con un coniglietto pasquale. Allora, buongiorno a tutti, io sono molto contenta di ritrovare questi due ragazzi che hanno fatto nel frattempo grandi passi in avanti, io do il benvenuto a Stefania Ferrante e a Nico Caradonna, buongiorno ragazzi. Buongiorno. E siamo qui perché parliamo di My Perception, ne abbiamo parlato tante altre volte nel corso delle nostre puntate, abbiamo parlato dei vari appuntamenti, delle varie puntate di questa mostra dedicata alle arti, scusate alle arti sì, ma anche ai Cinque Sensi, che questa volta sono stati racchiusi tutti insieme in una location speciale che è il Portino di Sant'Antonio, l'inaugurazione c'è stata ieri pomeriggio, come è andata Stefania? Molto bene, veramente è stato un grande successo, tanta gente, come ti dicevo prima, noi siamo abituati ad un locale più piccolo, ad uno spazio diverso, quindi il locale di Nico, visione ottica Caradonna, Modugno, dove abbiamo appunto tenuto gli altri scorsi 5 eventi. Qui ci siamo trovati in una location grande, ampia, monumentale, quindi anche affrontare l'allestimento di questo spazio è stato insomma abbastanza complesso, però insomma i docenti d'accademia, i ragazzi, insomma tutti insieme ci siamo fatti forza per gestire una nuova situazione e anche qui è andato molto bene e tutto quanto. E allora la mostra sarà aperta fino al 9 di aprile e si potranno vedere tutti i lavori raccolti, esposti in questi anni, lo possiamo dire, perché ho in un annetto, no però è più di un anno, infatti, in questi due annetti all'interno della tua ottica, dell'ottica Caradonna, c'erano vari appuntamenti in cui veniva stimolato non soltanto diciamo l'arte, non l'arte, il senso della vista, mi viene sempre l'arte visiva, però venivano anche stimolati anche tutti gli altri sensi e questo è stato molto speciale, però al Fortino Sant'Antonio che cosa possiamo trovare, che cosa si può vedere? Possiamo sicuramente riscoprire alcune opere che sono state esposte nei 5 eventi che abbiamo presentato nell'ottica e in più chiaramente ci sarà anche una nuova chiave di lettura che riguarda la percezione virtuale, quindi uniremo, stiamo unendo già da ieri, quello che è la percezione reale e la percezione virtuale, quindi sarà un mix di percezioni per arrivare poi al concetto di percezione aumentata. Tutto questo quindi con delle opere che sono lì esposte e lo saranno fino al 9 di aprile, come dicevamo prima, e sono opere che riguardano tutti e cinque i sensi, quindi la gente potrà percepire il gusto attraverso l'arte, il suono e tutti gli altri. Però ricordiamo un po' ai nostri telespettatori che cos'era il progetto My Perception, come era nata l'idea di questo progetto Stefania? È nata da Nico che un giorno mi chiama e dice Stefania senti io ho questa idea, io voglio realizzare qualcosa sui cinque sensi perché insomma la percezione, partendo da quella che è la vista, unire la vista a tutti gli altri sensi, percependoli ovviamente attraverso quelli che possono essere dei feedback sensoriali modulati dal pensiero. Quindi poi ci siamo riuniti e abbiamo deciso di realizzare questo training delle capacità sensoriali modulate dall'arte ovviamente, in contatto con l'Accademia di Belle Arti di Bari e quindi poi questo lungo percorso. I cui ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Bari hanno realizzato poi le opere d'arte e c'era un vincitore alla volta oppure no? I vincitori sono stati tutti perché il solo fatto di mettersi in gioco in questa maniera completamente nuova perché My Perception in quanto per quanto sia un progetto lungo di condivisione ha avuto come come dire come arma vincente proprio il fatto che sia stato esclusivo nella sua nella sua unicità non c'è mai stato un progetto di questo tipo. Quindi i ragazzi per noi, per me, per Stefania, per tutti, sono tutti vincenti. Allora diamo un po' le indicazioni della mostra. Quando è aperta diamo un po' gli orari. L'abbiamo detto è al Fortino Sant'Antonio. Sì, sì, al Fortino Sant'Antonio noi ci siamo oggi e domani dalle 17.30 alle 21.30. Poi c'è Pasqua e Pasquetta. Abbiamo lasciato insomma libertà a tutti anche di insomma fare altro. Riprendiamo poi martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20.30. Quindi orari serali insomma nel periodo pasquale. È stato anche poi diciamo strategico ieri perché c'erano i sepolcri e quindi siamo stati effettivamente un po' furbi. Però insomma è stato un successo di pubblico. Noi ringraziamo tutti i presenti, anche l'assessore Silvio Maselli insomma che è venuto, ha partecipato, ha contribuito anche con l'intervento del catalogo e ovviamente il direttore Silo Slabini dell'Accademia e chi ovviamente ci ha seguito e continua a farlo. Grazie. Eh sì, perché insomma meritate, questo lo meritate, meritate l'attenzione di tutti e soprattutto il supporto perché quando ci sono delle idee nuove, quando ci sono delle idee che poi possono dare spazio ai più giovani come ad esempio ai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, insomma bisogna dare merito a queste iniziative e soprattutto alle idee perché si tratta di quello, di un'idea nuova, non è una semplice mostra, non è mai una rete, è una collaborazione che avete creato insieme a tutti e questo è davvero molto molto bello e vi faccio un grande in bocca al lupo per questa mostra che ricordiamo raccoglie tutti e cinque gli appuntamenti di My Perception, gli orari ve li abbiamo dati, vi abbiamo detto dov'è al furtino, vogliamo dare le indicazioni su Facebook o un sito così magari chi non ha segnato, chi si dimentica magari può andare a vedere su... Abbiamo una pagina seguitissima su Facebook che potete tranquillamente accedere, trovate tutte le informazioni sugli orari di apertura e poi ovviamente c'è un sito di riferimento che è www.myperception.it Anche la pagina Facebook è My Perception, non si sbaglia Allora ragazzi mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati qui con me, augurarvi ovviamente buona Pasqua e riposatevi un po' visto che secondo me un po' di lavoro l'avete fatto in questi giorni Siamo un po' sottotona adesso, però grazie, grazie a Radio Bari per averci ospitato nuovamente e grazie a te, insomma ho parlato gentile No, grazie per me è un piacere, grazie a voi, grazie a Stefania Ferrante, grazie a Nico Caradon Noi ci prendiamo un altro po' di pausa e torniamo tra pochissimi